Un versi di base Q4 e un'altra persona Se poi non è che devi andare a far pagare insomma una salata la certificata beh, ma te sono comunque crucial cioè come come marca marca di di memoria e nel tuo crisi io credo che vieni insomma Guardi, tutta la roba comunque vanno bellissime insomma, non c'è bisogno di essere riscati sulla mappa Comprarle da By Different Rate lo significhi essere sicuri che funzioni e avere anche una sorta di garanzia Ah, invece By Different Rate Sì Aspetta Stai